Senti, ma ti posso fare una domanda seria? Mo' stiamo tra di noi, mo' questa è seria Io so, no, questa è seria Perché con Maurizio ne abbiamo parlato l'altra volta Di Domenico so, più o meno che ne pensa Però, so che a te ogni volta che qualcuno nomina le scan Tu impazzisci E però, voglio capire un attimo Qual è il tuo pensiero effettivamente sulle scan online? Perché dagli altri le conosco E poi magari Domenico e Maurizio ci raccontano Le scan sono come i freebooter non autorizzati Però In attesa dello strike Ok, e ci sta E' illegale, non si può fare Però effettivamente, quando un qualcosa non c'è in Italia Non c'è Non ti possono aiutare nello scoprire un qualcosa Che se poi arrivi in Italia te lo compri? Sì, ma non c'è bisogno delle scan illegali per quello Perché i primi numeri c'è Tipo i primi capitoli c'è ovunque Legalmente Ti faccio un esempio Aspetta, adesso ti faccio un esempio No, vabbè, proprio ovunque No Ti faccio un esempio Ti faccio un esempio Ti faccio un esempio Sì, ma non è che la serie di coro coro Che ti interessa Sai che esce lì Cioè, la maggior parte delle serie che uno segue Sono da jump Ma anche no Però Guarda, c'è il nostro amico Federico Dice Non leggo una cosa di jump No Infatti C'è il nostro amico Federico Dice Senza scan Non potrei leggere Agi meno Ippo Perché non lo pubblicheranno mai in Italia E initial D Io come lo leggo initial D Senza le scan Perdonatemi Come è tristo Guarda, io comunque Io la pensavo esattamente come Luca Fino a qualche tempo fa Io ero proprio integralista al 100% Sulle scan Non dovevo neanche nominarle Però Vedo che piano piano Sto cambiando sempre più idea Non che le giustifico Eh, assolutamente Però Ho, diciamo, una visione più Molto più malleabile Rispetto a prima Eh, esatto Quindi il punto è questo Su certe cose, eh Non Se tu hai chiaramente la possibilità di comprare il volume Lo devi comprare, ovviamente Vedi, oppure anche Non è che non li compro Sono pieno, però Assolutamente Anche il nostro amico Teo Dice Olly e Benji non uscirà mai dal Giappone Perché ci sono dei problemi E quindi Effettivamente La domanda è di nuovo per Luca Sì, non è che se non c'è posto La Ferrari la vado a rubare a qualcuno Al concessionario Non ce l'ho Non me la posso permette Eh, cavoli miei Ma la Ferrari c'è in Italia La vendo in Italia Magari il modello vintage anni 70 Che trovo solo a Osaka Capito? Non è che vado lì e la prendo O commissiono qualcuno per prenderla No Allora È lo stesso discorso che facevo io Allora, bisogna capire Cioè, perché Dobbiamo capire La sacralità che si ritiene di quel prodotto O meno Cioè, nel senso Leggere le scan È come rubare le caramelle Quando ti beccano Ti fanno toglie Dici Basta Non lo fare Cretino O è qualcosa di più serio No, ma Leggere le scan Non è un problema Leggere le scan Illegali È un problema Cioè, se tu vai E ti scarichi Manga Plus Stiamo parlando di quelle Stiamo parlando Di quelle illegali Stiamo parlando di roba illegale Parliamo di roba Che non c'è Che comunque non andrebbe fatta Però viene fatta Senza scopo di lucro Però È come chi scaricava i film Da megavideo Stessa roba Eh, ok, ma non è illegale Ma non è illegale In Italia non è illegale Fruire di questa roba In Italia non è illegale È illegale caricarla È illegale avere un sito E guadagnarci Chi lo fruisce Non è Non sta trasgredendo la legge In Italia Ma a parte quello Bisogna anche fare Una distinzione Secondo me Tra chi scarica Cento film E poi ne compra Mille in DVD Comunque Perché c'è anche questa cosa qui C'è nel senso Io C'ho una libreria piena di DVD Però tanti li ho scaricati Cioè Nel senso Film giapponesi Mai usciti in Italia Film coreani Mai usciti in Italia Allora Begotten Del stesso tempo Luca Prima di farti dire la tua Ti faccio un caso limite Fami parlare un attimo Fami parlare un attimo Ti faccio parlare Ti faccio un caso limite Pensa che domani In Giappone esce L'ultimo fumetto Di Oba e Obata E questo può rimanere solo in Giappone Non può uscire fuori dal Giappone Ok E tu sai che ci sono Sia in inglese Che in italiano Delle scan illegali Non può uscire dal Giappone Tu te lo leggeresti Ti interrogo perché l'ho già fatto in passato Ho comprato Platinum Andy in giapponese Pur di leggermelo Eh ma Se il giapponese non lo sai Vabbè tu magari lo sai il giapponese Però ti parli in linea generale Ti dai una mano con il traduttore Adesso c'è anche che Devi fare la foto alla tavola E riesci Ti traduci direttamente la vignetta Quindi non è impossibile Allora siamo arrivati a livello superiore Dopo l'ho ripreso tutto in italiano Perché non potevo andare in Giappone un anno In italiano i numeri hanno superato Quelli in giapponese Te li prendo tutti No ma ti credo Lo sai perché? Perché ho fatto la stessa cosa con gli e Benji Io ho fatto la stessa cosa Cioè io ho tutto Capitan Tsubasa in giapponese Sì ma fate quello che si stava dicendo Uno poi lo ricompra Questo tutto in giapponese Guarda Sì ci crediamo Luca Ma quanto è bellino però Luca Io l'adoro Io non ci posso fare niente Quando fanno queste No Luca Luca io ti capisco Credimi Io ho detto non posso leggere la nuova opera di Oba Obata Cazzo la voglio leggere Sai cosa faccio? Li prendo tutti in giapponese Vabbè Però tu avevi la possibilità di farlo Chi non ha la possibilità e lo desidera tantissimo Che fa? Deve schiattare Deve soffrire Deve piangere No Non è vero questo Non è vero Se non li può comprare come fa? No ma io non ho i soldi Per comprarli E quello che dicevo io prima Cioè Il mio discorso Prima che mi facessi il caso limite Quello che volevo risponderti normalmente Era A me non interessa quello che fanno gli altri Da questo punto di vista Ok Volete leggerle? Leggetele Fate come volete Io proprio preciso proprio non saperlo Non voglio saperne niente di questa roba qua Perché Per come sono fatto io Mi sento in colpa A leggere una roba Fatta Da un artista Dando i soldi A persone che stanno rubando il suo lavoro Aspetta Però tu non stai prendendo Completamente quello che fa lui Ci tengo a precisare questa cosa Perché tu stai prendendo qualcosa Magari Con un adattamento Di onomatopee In inglese O in italiano Con un lettering Che non è quello giapponese Una traduzione che non è quella giapponese È quella fatta da un'altra persona Cioè quindi comunque È un prodotto Che io considererei Derivato Non è completamente Quello giapponese Sì è un prodotto derivato Ma quelle sono Ci sono anche le scanne Esattamente come questi Oppure questi sono derivati E non sono quelli giapponesi Sì assolutamente Assolutamente Cioè noi leggiamo la traduzione Della persona che l'ha fatto per l'Italia L'adattamento della persona Però posso dire una cosa Il mio discorso Andava proprio anche in un altro In un altro modo Nel senso che Io ho capito quello che dice Luca E secondo me Nel suo integralismo Candido Forse ha anche ragione Perché Ma non è in un altro modo No no aspetta Aspetta Fermati Natio Se tu vuoi leggerti One Piece Scan Leggitelo Io aspetto No 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 Fermati Perché io ti voglio dire un'altra cosa Io so Anch'io come te Io Olli e Benji Quello che in Italia Che in Italia Non potrà mai essere pubblicato Ce l'ho tutto In giapponese Perché lo volevo vedere Non c'erano manco le scan Figurati Io da questo punto di vista Il mio discorso era un altro Ovvero Se in Italia questa cosa Non può arrivare E c'è la disponibilità Di leggere queste scan Da un certo punto di vista Non aiuta Il mercato E ti faccio l'esempio È uscito un fumetto L'abbiamo letto Ti ho dato la risposta prima No no Aspetta 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 Parlo in linea generale Aspetta Poi ti lascio parlare mezz'ora È uscito un fumetto Che si chiama Rooster Fighter È una trasciata immensa È un fumetto Praticamente One Punch Man Ma al posto di Saitama C'è un pollo Che combatte No E si uscite le scan Anche legalmente in realtà E io me le sono lette E so che Se uscirà mai In inglese o in italiano Io quel fumetto Me lo compro E quindi In questo caso Secondo te Non fa anche bene Se poi pensi che Shuesha Adesso le mette pure Legalmente No Secondo te non fanno Anche bene Effettivamente Tenendo conto Che naturalmente Sono illegali Quelli illegali Sono illegali E vabbè Però No È in crisi Lo stiamo andando in crisi No Ti ho detto Le scan Illegali Sono come i freebooter Non ufficiali I freebooter non ufficiali Comunque Fanno bene allo streamer In un certo qual modo Perché è vero Quelli magari ci guadagnano Una piccola parte E lo streamer C'ha quel contenuto Modificato Come può essere L'onomatopea Il lettering Per cui è editato Magari un po' tagliato Qualcosina C'è una sigla diversa Caricato Messo da un'altra parte Quelle persone Sanno che Vedendo quel video Magari quella persona Possono trovarla Anche su quella piattaforma Quindi sì Allo streamer Fa comodo In un certo qual modo Però secondo me Comunque non è etica Come cosa Tutto qua Però se lo fai o no Finché non riguarda me Ognuno può fare quello che vuole Come principio Come principio Non è etica sicuramente Però di riflesso Di riflesso Può essere un aiuto Io ho scoperto Tanti registi Giapponesi Coreani E cose varie Che non avrei mai guardato Se mi fosse affidato Solo al mercato Dell'on video italiano Dove non esistevano Allora scendiamo Scendiamo effettivamente Al nocciolo della questione Luca Siamo in Taiwan In Taiwan Un mercato incredibile Dove si vendono fumetti Stranieri Per ipotesi Ok Siamo in Taiwan Qualcuno ha scannerizzato Death Shield E gira Gira Tanto le persone in giro Lo leggono illegalmente Perché non l'hanno comprato Da Amazon Non sono venuto in Italia E questo Death Shield Bo Arriva sul tavolo Di un editore taiwanese E Taiwan dice Bo Ma perché non lo stampiamo Anche noi Cioè allora in quel caso E ne pensi Ha fatto bene Ma ha fatto male Certo forse magari Essere letto a Taiwan Non è fantastico Però non lo so Il discorso è che Siamo fuori dall'Italia E quindi c'è stato fatto Nel mio caso Un lavoro di traduzione Per Taiwan Ok Ok Quelli stanno in Giappone Sono fuori dal Giappone Tu sei Aspetta Fuori da un mercato E quindi non so Tipo se legalmente In Taiwan La casa editrice Che tiene i diritti Cosa possa fare A Taiwan Non ci sono regole Sui diritti Ciao Fedekoschi Se in Taiwan Non ci sono regole Sui diritti Bisognerà vedere Il foro competente Che cazzo Rola ne so Cioè Taiwan Non conosco Le regole di Taiwan So tipo se No no Taiwan non ci sono proprio Regole sul copyright E quelle cose lì Non esistono Taiwan è un'isola Dove chi si è Un paradiso fiscale Comunque Io devo essere sincero Io nonostante tutto Naturalmente È un esempio Un po' estremo Un po' estremo Come esempio Forse Però più o meno È la stessa cosa Che accade qui Perché io ti posso Assicurare No però qua ci sono Delle regole Anche editori Ci sono delle regole È giustissima È giustissima Perché non puoi Non puoi leggere Berserk in live Spiegami Non posso leggere Berserk in live Integralmente Perché i diritti Appartengono Di riproduzione Di distribuzione Appartengono all'editore Non c'è niente Taiwan Se hai a Taiwan I diritti della produzione Esatto I diritti di immagine Che loro comunque possiedono Ma se tu eri a Taiwan Magari potevi leggerlo A Taiwan Qua no Quindi non puoi comparare L'Italia Con le regole Io adesso non so Se mi avete detto Una cazzata Sei Taiwan Non ci sono diritti D'autore E queste cose qui Però Non puoi comunque Paragonarla Perché qui C'è E infatti Non te lo fanno Leggere in live Ma non mi fanno leggere Il loro Se io sapessi Che cazzo Ne so Giapponese O volessi prendere La versione inglese Potrei comunque Sempre mostrare Berserk Cioè dovrebbe Poi venire L'editore inglese O l'editore Giapponese Che non si può fa In ogni caso Comunque Ma come non va Per i siti De merda Magari non va Nemmeno per me Però non è questo il punto Il punto è Eticamente possiamo Anche immaginare Perché tanto Da un punto di vista Socioeconomico Io credo che sia scontato Che fanno bene Fanno bene In generale Tanti editori Hanno scoperto cose Perché Tanti lettori Dicevano Ma io leggo questo Leggo questo Leggo questo E loro ascoltano Sondano il mercato Sentono cosa vuole La gente E Oltre a tutti i titoli Di punta Che devono comprare Comprano pure qualcosa Di diverso Insomma Però da un punto di vista Etico Cioè è una linea Di demarcazione Molto sottile Secondo me Perché bisogna Sempre capire Le intenzioni Cioè io Lo fai Cioè stai portando Questa cosa In Italia Per Aspetta Evidenziamolo Fendi 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 Evidenziamolo Aspetta che lo vado a trovare Due secondi fa Luca Allora le biblioteche Che prestano i manga Cazzo dovrebbero esserci ovunque Ovunque Le biblioteche che prestano i manga In Giappone c'è sta cosa Sono così usurati Ci sono andato Proprio distrutti Però è bello Perché tu vai lì Gratuitamente Prendi il tuo manga E te lo porti a casa Eh Luca Ma il Giappone Non è l'Italia In Italia non ci sta Lo so Infatti ho detto Lui mi diceva Allora quelle che prestano i manga Sarebbe stupendo Che ogni biblioteca Oltre C'è la biblioteca Tutte hanno la sezione fumetti O libri Anche lì non arrivano soldi All'autore Geronimo Stilton C'è C'è so Poche cose Insomma Le più classiche Insomma Sarebbe stupendo Che io vado nella mia biblioteca E vedo che c'è Naruto Dragon Ball One Piece Sarebbe Una bomba E questo Io non solo sarei a pro Ma sarebbe stupendo Luca scusami Però il discorso Il mercato dell'usato È uguale Perché anche lì Non arrivano soldi all'autore Sull'usato E stessa cosa Sulla biblioteca Ma a me non so che niente I soldi all'autore Allora È un discorso O no Non ho capito È un discorso Etico Ma non riguarda i soldi all'autore E qual è l'unico motivo Per cui quello pubblica Per guadagnare Cioè te che hai pubblicato Per la gloria Hai pubblicato per la gloria Perdonami Io ho pubblicato Perché era il mio sogno E poi ho anche guadagnato Da questo Però Sì ma Sì ma se il discorso è etico È non farlo Un attimo Un attimo Domenico Posso fermarvi un attimo Vi stoppo Vi stoppo tutti e tre No Vi stoppo un attimo No vi stoppo un attimo Tutte e tre Perché secondo me Siamo proprio usciti Totalmente fuori dalla domanda No perché Fammi finire Perché se no poi vengo frainteso Devo finire La biblioteca Non ha fini di lucro Ok Io non ti sto Vendendo Quel prodotto Te lo sto prestando Gratuitamente Se un mio amico Mi presta un fumetto Ascoltami Se un mio amico Mi presta un fumetto Non mi chiede dei soldi Se mi chiede dei soldi È un amico un po' così Che mi chiede dei soldi Per prestarmi un fumetto Non è un amico È uguale Invece Secondo me La scan illegale Quindi dove c'è Un guadagno Da parte di qualcuno Che non è l'autore Per si rimaneggiare Ma rubare E rimaneggiare Il lavoro di altri Io non lo trovo Eticamente corretto Mentre trovo Ti senti Marets Ma tu ti metti I guadagno Mentre trovo Ti senti Marets Non piacciono a nessuno Noi parliamo di persone Che lo fanno veramente Mentre io trovo Eticamente corretto Il fatto che sia tipo Una biblioteca Ora lascia stare Il fatto che possa essere Fisico o virtuale Dove io vado E posso leggermi Quella cosa lì Io sarei il primo a dire Cazzo mettetece Mille detici Di tutte le biblioteche Subito Sarei felice Se lo avete fatto Che la gente Può leggerlo Senza spendere nulla Non so se ti ricordi Mi sembra l'hai fatto anche tu Non vuoi dire una cazzata Quando Shockton Ci aveva chiesto In quarantena Volete mettere Il vostro lavoro Eccetera Subito Mettetelo gratis In scambio Non c'era nessun problema Anzi Ero stramega felice Del fatto Che appunto Magari Chi non l'ha letto Perché dice Non c'ho i soldi Per comprarmelo C'è il scan Gratis Se lo puoi leggere Sto prima di Mettete tutto gratis A me quello lì Va benissimo Però l'ha fatto La casa editrice Non l'ha fatto Un sito che Ci guadagna in più Attraverso sta cosa Poi vabbè Io ragazzi Vivo in un mondo utopico Fatto di Cavalli d'Alzanti E unicorni Ma guarda Posso essere sincero Te lo dico Spassionatissimamente Il tuo Integralismo Candido È veramente Incredibile Secondo me Ma in senso positivo Non lo dico in senso negativo Perché è una cosa Utopica Però Che tu la pensi così In maniera Integralista Integralista Devo essere sincero Nonostante tutto Penso ti faccia anche onore Anche perché Per quanto di nuovo L'illegalità Naturalmente è illegale Quindi condannabile Comunque credo che nessuno Sia mai morto Per aver scaricato Non lo so Un libro Un fumetto Un film Sì vai a danneggiare Ma se poi tanto te lo compri Come credo Possiamo dirlo Con Maurizio E con Domenico Che compriamo tonnellate Di roba Soprattutto perché Ci piace Ci piace Supportare il lavoro Degli artisti Che ci piacciono Non credo sia un problema Per aver guardato È un problema C'è il resto C'è il resto Non credo di persone Pianco Come vedo C'è il resto C'è il resto